Buongiorno ragazzi e benvenuti in Pillole di Calisthenics. Oggi vediamo un esercizio piuttosto avanzato. Vedete, facciamo un misto tra esercizi base e intermedi avanzati. Oggi vediamo una delle prime propedeutiche avanzate per i freelance and push-up, ovvero i piegamenti in verticale libera in versione eccentrica. Questa roba qua. Ci portiamo in verticale e subito... Vedete, ci si lancia giusto in verticale e senza star lì a pensare troppo al controllo immediatamente si droppa giù nel piegamento. L'idea è imparare a controllare e sentire la discesa eccentrica in tutte le sue fasi, in modo fluido, e arrivare nella parte finale in buca che è la parte poi più difficile a livello di forza ma è quella in cui riusciamo a controllare meglio il movimento. Rivediamo. Mi porto in verticale Mi porto in verticale e subito... Wow! E lavorare così per ripetizioni poi ti assicuro che ti aiuterà poi a prendere il livello per poi piano piano riuscire poi a fare anche l'altra fase. Corri a praticare questo esercizio, sei già nelle tue corde. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!